Si chiamano Tango e Ginepro, sono i due cavalli di razza maremmana in servizio in questi giorni sull'altopiano dei sette comuni, assieme ai carabinieri forestali di Roana, Bassano e Conco. A queste speciali pattuglie spetteranno i compiti di vigilanza ambientale, controllo del territorio e prevenzione di illeciti di natura ambientale e sviluppo di incendi. Svolgeranno il loro servizio nelle aree naturali e nei parchi dove è maggiore l'affluenza di turisti, lungo i percorsi fuoristrada ma anche nelle aree boscate e in quelle evocate alla raccolta funghi. I cavalli in servizio al reparto carabinieri biodiversità di Belluno arrivano dalle scuderie presenti nella riserva naturale del vinchetto di Celarda dove sono nati e sono stati addestrati.